Non dico che grazie a me, però io conoscevo lui da tanto e sapevo le sue qualità come uomo e soprattutto come giocatore. Adesso lui dimostra tutto questo e lo vedo molto tranquillo perché è difficile in questo momento stare tranquillo quando ogni giorno parla anche di altre squadre, anche di suo contratto. Però secondo me lui sta molto bene qua e sicuramente farà tutto per rimanere.